Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Il mercato continua a scaldarsi Dopo i primi giorni di trattative Che hanno visto i ritorni importanti nel nostro campionato Come quello di Nicola Sansone al Bologna E D'Ocaca all'Udinese C'è una squadra, precisamente il Chievo Che pensa ad una soluzione di cuore Riportare Siril Theroux a Verona Visto che il francese è ormai finito ai margini del progetto Viola Intanto anche la Coppa Italia è alle porte Con i toscani che saranno impegnati domenica in casa del Torino Le quote dicono che la favorita numero uno Neanche a dirlo è la Juventus La Fiorentina intanto continua a lavorare a Malta In questo richiamo di preparazione Con il nodo Marco Piazza ancora da sciogliere Anche se il suo agente ha confermato che il suo assistito a gennaio non si muoverà Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola